L'attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli enti locali ed il coordinamento con le norme anticorruzione. Quali obiettivi, quale ruolo per le città metropolitane? È stato questo il tema al centro del seminario tenutosi questa mattina nella Sala Cirillo di Palazzo Matteotti a Napoli. I lavori sono stati introdotti dal consigliere metropolitano David Lebro, cui sono seguite le relazioni di Giuseppe Di Benedetto, magistrato della Corte dei Conti, e di Gaetano Scognamiglio e Ioletta Pannocchia, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione Promo Pia. Si tratta del primo di 16 incontri che il Format, in collaborazione con la Fondazione, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e la struttura di auditing Pia, organizzerà in tutta Italia per illustrare i contenuti della riforma del settore dei controlli. La scelta di iniziare da qui dimostra che la città metropolitana di Napoli è in prima linea nella battaglia per un'azione amministrativa corretta e nella lotta alla corruzione. Sì, io ringrazio il Formats che ha scelto Napoli come primo seminario di 16 seminari che saranno svolti in Italia proprio su questo cambio del sistema del controllo. Cioè con il 174 e il cambio dell'articolo 147 del TUEL sono cambiati i sistemi di controllo degli enti locali. Come amministratore io dico sono migliorati, nel senso che sono aumentate le responsabilità di alcuni ruoli all'interno delle amministrazioni locali come quello del segretario generale, come il responsabile finanziario e questa è una cosa importante perché garantisce di più i vari consigli, l'ente locale di per sé, perché questi sistemi di controllo evitano errori o aiutano anche a prevenire la corruzione generale. Quindi è un seminario importante, sono venuti a partecipare molti dirigenti del comune di Napoli, della provincia e anche di altri comuni e stanno seguendo con attenzione una relazione molto interessante che sta facendo il dottor Di Benedetto della Corte dei Conti che chiaramente anche gli vede in positivo questo ampliamento di controlli all'interno degli enti locali. Nella mio saluto di introduzione mi sono permesso anche di fare una sollecitazione su quello che è il ruolo della revisione contabile all'interno degli enti locali, andando a stigmatizzare probabilmente la selezione dei revisori. Una volta venivano votati negli enti locali all'interno dei consigli, oggi sono sorteggiati alla Prefettura, probabilmente il legislatore deve ripensare un attimo il sistema di selezione perché ci possono essere casi chiaramente limitati ma di professionisti sicuramente seri ma non preparati su quello che è una materia molto complessa e con gli enti locali su cui ci devono essere seminari, corsi e aggiornamenti molto pesanti e molto anche continui. Penso che il legislatore deve ripensare la cosa e chiaramente con la collaborazione degli ultimi professionali probabilmente un po' come la scelta che si fa con i segretari generali, probabilmente si potrebbero fare degli albi, ma comunque resta molto importante oltre al ruolo dei dirigenti, dei segretari generali e dei responsabili dei servizi finanziari quello è il controllo che i revisori dei conti che si devono fare sui conti pubblici.